Le Sicilia Sisters stanno per arrivare. Niente sarà più come prima. Viva! Sei un po' donatissima! Non senti una prossima, va in modo, la donna Foglia! Foglia? Mi sto dicendo che con un certo po'! Stai entrando in contatto con il suo spirito, Guilla! Ovviamente qui, mi sta parlando! Che dice? E io non lo capisco! Io sono indecisa tra A e B! Deciditi! C! E' troppo avanti! Ho provato tutta la notte la posizione 34, quella di Aladino! Una stanchezza! Beh, com'è? Semplicissima! Strofini la lampo! Aspetti che venga fuori il genio! Cosa c'è di stancante? Beh, ieri sera il genio se mi t'ha visto! Vincitrici del leone di plastica alla Biennale di Canalicchio! Orso Polare al Festival del Cinema di Librino! Ah, adesso va di moda il caos virtuale! Virtuale?! Sì! Ti spettino i capelli da sola! E io te li guardo senza toccarli! Perché il taglio sta negli occhi di chi guarda! Quattro nomination al Grande Fratello! Premio di consolazione alla Sagra della Sassizza di Petralia Sottana! Per i profiti vai a pagina 54 sotto la foto di Vaz de Gaulle nudo! Ecco qua! Oh, ma la pagina è strappata! Vinciti! New York Times! Oh my God! La Repubblica! Bravi tutti! Le Figaro! Parble! La Sicilia! Lo specchi ganuti! Stress and Stress! Se avete dei neuroni, lasciateli a casa! Che jetzt ti sento là! Che da? Che da? Che da? Che da? Che da? Che da? Che cosa ti sento lì? Che da?